Ci puoi raccontare in sintesi qual è l'attività che svolge Fondo Impresa? Fondo Impresa è oggi il maggior fondo interprofessionale italiano, ha circa il 48% del mercato, cioè 4 milioni di lavoratori iscritti che lavorano in oltre 130.000 imprese. Noi cerchiamo di aiutare le aziende a costruire una cultura della formazione attraverso finanziamenti che eroghiamo o in maniera aggregata, il conto di sistema dove presentiamo grandi piani e delle organizzazioni importanti come ad esempio Federlegno rispondono aiutando i propri iscritti, prendendosi carico di questi grandi progetti, aiutando i propri iscritti a fare formazione o finanziando attività formative per la singola impresa attraverso il proprio conto di formazione. Cioè un accantonamento pari al 70% del versato che ogni impresa ha presso di noi. Per le piccole e le piccolissime imprese che sono iscritte da più tempo a Fondo Impresa prevediamo anche un piccolo contributo aggiuntivo che si può richiedere attraverso una semplice modalità online. Io vi consiglio di sentire ad esempio l'associazione imprenditoriale, in questo caso Federlegno, per avere tutti i consigli utili a usufruire ai nostri servizi. Oggi ci siamo ritrovati qui a Milano all'edizione 2012 di Made Expo per fare un po' il punto di come è andato il progetto formativo che Fondo Impresa ha realizzato con Federlegno Arredo durante l'ultimo anno. Qual è il giudizio che ne ha ricavato? Io sono molto contento che anche il settore Regno Arredo, che è un settore importante per l'economia di questo paese, incominci a misurarsi con i nostri piani formativi. Tradizionalmente erano altri settori che presentavano richieste di finanziamento a noi. Noi siamo molto interessati al fatto che questi settori meno abituati a lavorare con noi imparino a usare dei nostri fondi e diventino dei soggetti sempre più attivi e diffondano questo tipo di cultura fra i loro associati. Grazie a tutti.